Martedì 13 marzo, in primo piano nel TGL News, ancora la notizia che vi avevamo anticipato ieri, vale a dire la truffa ai danni di ignari clienti da parte di sub-agenti assicurativi, ebbene emergono dettagli, si tratta di 5 sub-agenti che avrebbero truffato appunto per 3,5 milioni di euro, quest'ignari clienti soprattutto attraverso il meccanismo delle polizze vita, e dunque prosegue l'approfondimento di questa notizia. Cala per gli esercizi commerciali il costo della tassa rifiuti, sotto la lente in particolare 4 attività di una ricerca pubblicata dal sole 24 ore c'è un lieve calo dello 0,3% per tutte le voci che riguardano appunto la Tari, tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it. Parliamo ancora di cronaca, tampona un'auto e scappa per non fare tardi al lavoro, 25 anni rintracciato e denunciato a Podenzano da parte della polizia appunto locale, della polizia municipale, e poi la casa della carità compie 20 anni, la nostra famiglia dicono gli ospiti, i tanti ospiti che sono stati aiutati. Chiudiamo parlando di piazza Cittadella perché ieri in consiglio comunale è arrivato un importante annuncio, vale a dire che saranno installati i posti blu, sostanzialmente le righe blu a pagamento per evitare il caos che caratterizza oggi proprio la zona di piazza Cittadella. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it e ovviamente nel TGL delle 13 e 15.